è così ragazzi, è così, può dar fastidio ma è così, anche se è un socio di minoranza ha più soldi, comanda lui, punto, c'è poco da fare, però dovete partire dal risultato personale che volete ottenere negli anni, l'imprenditore pensa troppo poco ai suoi risultati personali netti, netti in tasca, quanti soldi voglio avere, articolo 6 in Veneto, comanda che c'è? grazie grazie